Allora, Goku, Prime Battle, LR Già sento gente piangere Ah, io non l'ho mai farmato, sarà difficile farmarlo adesso, è noioso Dio santo, noi del primo anno che abbiamo fatto le run 50 stamina alla volta E puntualmente droppava 7 medaglie Un incubo Quindi per noi player del primo anno Questo Goku che va a superenza è un regalo Un vero regalo, una soddisfazione Allora, tralasciando vabbè la leader che comunque potrebbe tornare utile nei battlefield Leader super più 4k 90%, extreme 70% Special di questo Goku Devo dire La ultra, cioè la 18, Mega Colossal Buffa gli alleati 30% all'attacco E chance di grittare del 10% per un turno Buono, quel 10% Con la 12 invece abbiamo Glitteries, Attack and Death per un turno Quindi un 50% Non è male La nuova passiva Attack and Death 159 E abbiamo capito Che comunque quelli sono i numeri Legati a Goku E li sfruttano finché possono Poi abbiamo Chi più 3 Un 159 extra Con Ahimè Ma mi rendo conto del motivo 70% di chance di attivare la guardia Se è giocato primo o secondo Certo Avrei gradito Io come tutti gli altri Una guardia garantita Però È una cazzo di carta gratuita Se lo facevano ancora un po' più forte Si smettevi di pullare i Goku Super Saiyan Quindi mi rendo conto Che è quel 30% in meno Di possibilità Di prendere la special O di non attivare la guardia È giusto che sia così Facciamoci una ragione Quindi Buono In realtà buono Perché 159 Di difesa in più Con chance di guardia Con primo o secondo Posto Considerando che si può giocare Nel team del trio Metti trio Primo slot Lui secondo E va bene così In più Un ulteriore 3 chi Attacco 159 Con Sempre 70% di chance Di lanciare Una special Se è giocato Secondo O terzo Quindi Se lo giochiamo secondo In realtà Che è il suo slot Per antromasia Abbiamo Sia Il 159 Di def Sia il 159 Di attacco extra Che si vanno a sommare Al 159 Iniziale In più abbiamo Per l'appunto La chance Del 70% Di guardia È chance Del 70% Di additional special Al lancio della special Abbiamo 159% Attack and def Da calcolare Separatamente A tutti gli alleati 3 chi Agli alleati Super Attack and def 30% Super efficace Contro tutti E Critico Contro gli extreme Raga Meglio di così Non dico che è rotto Ma poco ci manca Si builda full add Restava non male come kit Sì Speriamo che gli danno pure Le skill orb personalizzate Così mi faccio una sega Comunque sì Ovviamente si fa 15 add Vabbè il resto eva Sì Il resto eva Tanto Tanto abbiamo super efficace E critico Quindi se il resto eva Va bene Le link ragazzi Purtroppo sono Un difetto di questa carta L'abbiamo detto prima È una carta del primo anno I link fanno veramente Cacare Allora Quindi ci dobbiamo Accontentare Del minimo indispensabile Con cui possiamo farlo linkare Che sono Golden Warrior Che è Diciamo Tra quello che può Può linkare Comunque Tra i peggiori Un ki E debuffa La def del 10% Vabbè Super Saiyan Almeno quello Kamehameha Almeno quello E poi Ultimo Legendare Qualora lo facessimo Linkare con un LR Se non linka con un LR Praticamente Questo Linka Due Super Saiyan Kamehameha E a volte Golden Warrior Poi The First Awakened Link Dimenticato da Dio Family Ties Non ne parliamo proprio Quindi sono due link Che non vedremo Quasi mai attivati A meno che Domani Non droppano Il Bardak Che hanno appena Annunciato a Tour Va ad LR Magari avrà Family Ties Solo per fare Linkare con questo Coco Ma sinceramente Se è solo per questo Previsco di no Quindi Non fa niente Non fa niente Non ci attacchiamo A questo discorso Dei link Lasciamo perdere Lasciamo perdere Dei link Comunque Linkando con un LR Quei quattro link Si porta a casa Un 40% di attacco Quindi va bene così Facciamocelo andare bene Categori Purseyan Goku Family Super Saiyan Kamehameha Final Trump Card Tarturo School Bondone Friendship Bondone Parent Third Blade Fighter E Power of Wish Godo 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 c'è anche Power of Wish Perché io mi ero Letteralmente dimenticato Che questo Goku Fa anche la Genki Dama Vi dirò Mi divertirò Tanto Utilizzarlo Nonostante Linki male Mi divertirò Tanto Utilizzarlo Ah tra l'altro Quattro link Con Gohan Nell'R Family Ce lo facciamo andare bene Poi alla fine Anche Buffer Cioè Ragazzi Dopo tutto Sto bordello Sto PG Buffa 30% Con la passiva E buffa L'attacco Con il lancio Della special Con 10% Di critico Ma va Ma io me lo faccio andare Più che bene In un team Dove letteralmente Ognuno di loro Sta buffando E sto immaginando Il mio team Super Saiyan Con i bimbi Quello là Che sto giocando adesso Sinceramente Io me lo gioco Sto Goku Eh Dai ragazzi Tutto sommato Tutto sommato Mi Mi piaciucchi Anche La La possibile Giocabilità Di questo Goku Le stats Sono invariate A meno che Non gli danno Delle skill Orbe personalizzate Comunque 20.400 Di HP 20.500 Di attacco E un 13.220 Di difesa Potrebbe Difendersi bene Questo Goku In questo meta Dove Dove I PG Attualmente Stanno Buffando Quindi C'ho buone speranze Allora Io i calcoli In realtà Me li sono già fatti È proprio Una formalità Cioè Me li rifaccio Solo Solo Unicamente Per farvi vedere Anche a voi Che Sto Goku Può Dare belle soddisfazioni Quindi Abbiamo Partiamo dall'attacco Così Ci Ci gasiamo Subito 20.500 Abbiamo detto Per 5 Che È la Ligia 200 Per 2 Il key meter Mettiamo Quei link Quei 4 link Family Tice The Festival Che non li mettiamo Cioè non li calcoliamo Poi se domani Esce un PG Che il link Per Perfettamente I calcoli Sano diversi Però mettiamo Il minimo indispensabile Che è 1.4 Abbiamo detto Quindi Giocato Al secondo slot Al terzo Per quanto riguarda L'attacco Però noi Tendenzialmente Proveremo a Giocare lo secondo Qualora Abbiamo una rotazione Più solida Lo metteremo Terzo Che comunque È un buffer È un buffer Anche se Lo giochiamo Terzo Se lo giochiamo Centrale Bufferà pure Con la special Però Insomma Va bene così Quindi abbiamo 159 Più 159 Ma quindi promosso Per me sì Più 30% Che chiaramente Buffa gli alleati Anche se stesso Quindi È 348 Al lancio Abbiamo 2.59 Con la 18 Abbiamo detto Ries Attack 30% Anche gli alleati Con critico 10% Allora Goku Senza Altri Buffer in turno Quindi Calcolati In un team 200 Senza Il trio Un generico Un generico 200 Spara Dalla 18 24 milioni Che sinceramente Per un pg Del primo anno Abbiamo detto Che ha 70% Di chance Di fare Un additional Special E chiaramente Buildando Lo full Ad Potrebbe farne 3 Quindi Senza Che lo Ricalcoli Sostanzialmente Con un Ad Fa Il primo Ad Sono 14 Milioni Quasi 15 Il terzo Ad Sono 15 Quasi 16 E queste Sono Insomma Le Caratteristiche Senza Alcun Buff Senza Buff Del turno Precedente Che potrebbe Donagli Il Mirabolante Trio In quel Timo Alla Probabilmente Lo vedremo Caricare Una trentina Di milioni Quindi Si Direi Direi Che va bene Direi Che va molto bene Ragazzi Va molto Molto Bene Non attiva La guardia E pazienza Non fa niente Che peccato Non ha attivato La guardia Però ha attivato 24 milioni Allora Che poi Sinceramente Questo C'ha Grid 3 Attacca Nedef Nella 12 Certo Potreste Potreste Sfigare Non fa Yad Quindi Finisce La Ne fa Una sola Potrebbe Entrare La culerita È sempre Dietro L'angolo Non è Nulla Di garantito Però Se vi Parte Il turno Che fa 3 special Questo Si aumenta Pure Potreste Anche Decidere Di Non Mandarlo In 24 E Fare 3 special Da 12 Solo Per Aumentare La Def Però Follia Totale Io punterei Sempre A A buttarla Di fuori A sto punto Però Volendo Volendo Potreste Fare 3 special Da 12 Solo Per Aumentare La Def Difensivamente Non è che Sta messo Peggio Per me Sono Buone Cifre Anche Difensivamente Allora Abbiamo Un 13 Mila Andiamo A condolare Mi ricordo 220 Cioè Il vero Problema Di Questo Goku A livello Difensivo E' Sempre Il Discorso Che Non Ha Link Che Lo Aiutano Zero Link Che Gli Danno Un Aiuto Difensivo L'unico Sarebbe The First Away Che Da 10 Per De Death Ma E' Un Link Che Non Ha Senso Di Esistere Allora E' da Escutivamente Pensare Da slot 2 post Special Per quanto Mi riguarda Poi Se vogliamo Fare la punta Al cazzo Vediamo Slot 1 Quanta Difesa Ha Prima Della Special Prima Di Essere Attaccato Però E' Parasiglian D'obbligita Slot 2 Allora Prima Special La Mancanza Di Link Pesa Pesa Tanto Tanto Eh Si Questo E' Con Ovviamente Con La 24 Con No Con La 12 Il Discorso Cambia Perché Con la 12 Con 50% Di Race Defense Andrebbe A Fare 1 150 Di Difesa Poi Ci sono Le Eventuali Additional Quindi Se Entrano Gli Add Sono Con L'add Un milione E mezzo Con Il terzo Add Un massimale Di Un milione E nove Però Sinceramente Questo Un milione E nove Per Per Quanto Mi riguarda Non lo andrei Neanche A puntare Cioè Io farei Buttare La di fuori Facendo La 24 E Puntare Al massimo A fare Asculare Perché Non è una cosa Che dovete Decidere voi Asculare I due Additional I due Additional Di Passiva E di Di Abiti Per Mirare A fare Questa Difesa Massima No Per Per Due Un milione E mezzo Un milione E mezzo Che Comunque Abbiamo 70% Di scienze Abbia La guardia Non è garantito Però è buono Ciao Alex Bravo ma non si applica Sto Gohan Stiamo parlando Di Goku Però è in battle Gohan Ne parliamo dopo Quindi Raga Sinceramente Senza calcolare Comunque Sto PG Si run In un team Pieno di buffer Che lo andrebbero A buffare Ulteriormente La difesa Tutto quello Che volete Per me Un PG Che ti fa Di base 24 milioni E che può arrivare A un milione e mezzo Di difesa Con chance Di guardia Va più che bene Per essere Un gratuito E mi sbilancio Di nuovo L'ho detto prima E' attualmente Il miglior Goku Super Saiyan Del gioco Non ce ne sta Di meglio Non ce ne sta Uno meglio di questo Perché tanto Goku Tech Carnival Non arriva Immediatamente A queste difese E Pure se c'è La guardia Ad oggi Vi esplode Goku STR Carnival Ha bisogno Di prendere 10 attacchi Prima di essere Decente Sinceramente Non ce lo possiamo Permettere Poi Che è rimasto Goku Goku LRGL Non lo considero Proprio Dobbiamo aspettare Lezza di Goku Namek Troppi danni Ragazzi Prende troppi danni Goku Carnival Cioè Vi illudete Del fatto Vabbè ma c'ho la guardia Me lo metto E me lo set up Ok Usa l'item Anche su questo Perché tanto Quello Negli eventi di oggi Non lo riescesse ad appare A sto punto Ti metti L'item su questo Che ti fa 24 milioni Quello no Quello non te li fa 24 milioni Non li fa neanche Dopo che ha preso Tutti i cazzo di pugni Ma è ovvio Che quello Intatezzo Sarà broken Ma mi sembra ovvio Io sto parlando Di questo momento In questo momento Questo è il mio Goku Super Saiyan Ad andare a NAR Ed è un gratuito E' ovvio Che Goku Ma come anche FPF AGL Sarà meglio Di FPF fisico E' normalissimo Arriverà il loro momento Come poi Probabilmente Uscirà un nuovo Goku Anche se sinceramente Se dovessero fare Faranno sicuramente Un nuovo Goku Namek Io punterei Sul Rifare La scena epica Della trasformazione E quindi Partire da Goku Base Anche solo Con un entrance Però Partire da Goku Base Non In modo tale Che poi Potrebbe anche Linkare con Goku Namek Int Tralasciando Il Goku Namek Int Quando andrà Ad Ezza Per ora Questo Rimane Il miglior Goku Da rannare Super Saiyan Ma si Ma effettivamente Come hanno rifatto Goku Della Busaga Come animazione Possono rifare Anche Goku Namek Ma figuriamoci Se si fongono Questo problema Comunque Goku Namek Str Carino Da vedere Ma è invecchiato Quindi c'è bisogno Di un Goku Che si trasforma Per la prima volta In Super Saiyan Secondo me Sarebbe proprio Una bella Ciliegina Sulla torta Al decimo anno Del gioco Un Goku Namek Contro Freezer Final Form Di cui non esiste Ricordiamoci Un Dokkan Fest Più Per me Più che è promosso Questo Goku Va bene così Non Non potevo Chiedere di meglio Cioè cioè Oddio Potevo chiedere di meglio Sicuramente Però Va bene Va bene così Me lo faccio andare bene Ragazzi Mi rendo conto Che se l'avessero fatto Più completo Di quello che Può già essere Dopo andavano loro In difficoltà Nel Far uscire Un Goku Più accattivante Da farvi pullare Questa è la verità Perché se questo è così Vuol dire che poi Faranno un nuovo Goku Uguale a questo Con gli stessi danni O anche maggiori Però con la guardia Fissa E la riduzione del danno Se ve lo facevano Perfetto Non pullavate più Nessun Goku Per Saiyan Da qui a un anno Per me dovevano dare La guardia garantita Ma chi se ne frega Di giocare lo slot 1 Alex Ma svegliati Gli amo Per piacere Ma è un BG Che fa 24 milioni Ma va Forse ti capiterà Di giocarlo prima In evenienza Pure se c'è un nemico A GL Cioè Lai c'è la guardia Per forza Perché il nemico A GL Lo metti primo Ma poi comunque Un lancio della monetina 70% Cioè Doccan è anche questo E anche il lancio Della monetina Avete rannato per secoli I BG che vadono E mo Cagate il cazzo Per 70% Di guardie Alla prossima